Ladies, siamo a fare un po' di spesa per il compleanno di Megan Puoi prendere questi? Allora, lei vuole prendere le patatine e il popcorn Questi mi hanno messo tanto popcorn Sì, ma sono gialle, Megan Ma quelli gialli sono ancora più buoni Va bene Poi ho preso Io non volevo prendere le patatine, lei le vuole prendere Mini marshmallow Sì Ho preso le posate Vabbè, poi facciamo LOL Adesso, sì, dobbiamo prendere più le cose di carta, tutta questa roba qua Allora, le patatine grosse se ci stanno Popcorn Questi sono al formaggio Quelli sono quelli bianchi No, c'è un bianco Vediamo un po' Ah, ci sono un sacco di roba comunque qua Quelli li vuoi prendere? Quelli laggiù Ah, questi sono al formaggio, sono buoni Devo prendere? Eh, dipende voi se ve li mangiate Ah, io ve li mangio Eh, ma sono piccole Vedi se ci sono a busta più grande E poi vi dicevo Prendiamo un po' di cose Carta, tovaglioli Perché siamo da Dollar Tree E qui hanno una marea di cose per le feste Quindi volevo prenderle qui Non pensavo di prendere anche le patatine e sta roba qui Però giustamente Oh, fammi vedere Katie Cooked Original Vabbè, via quello Vai Prendo due Uno a uno Vabbè Perché verranno delle amiche di scuola di Megan Dei amici nostri Che hanno anche i loro figli Questa roba qui no No, questa prendiamo quella originale C'è la Pepsi Ah, c'è anche la Coca-Cola Aspetta, fammi vedere la prima volta che mettono la Coca-Cola Prendiamo questa qua Che così si C'è anche la Ladies, guardate qua Qua è la fronte arancione Fa schifo Ma no, prendiamo questa qui Che così ce ne è tanta Ora vediamo Ladies Siamo a fare shopping per il compleanno di Megan E stiamo scegliendo la torta Siamo un po' indecise Anche se qui ce ne sono di meravigliose Come potete vedere Guardate che belle E che buone Megan è bellina Anche questa, guarda No, ma quella lì è più carina Cioè, questa è carina Però dove ce la mettiamo Megan piaceva Vi faccio vedere quale Allora, qui hanno una serie di torte Che praticamente poi si possono decorare sopra Con quello che volete A lei piaceva molto questa qua No, però come se Questa Però, ladies Non me la sono sentita di prenderla Perché praticamente queste torte Come se fossero tipo congelate Poi la lasciate in prego Domani Non lo sai C'ha troppi ingredienti Non mi piace Ora stiamo scegliendo la scritta Io non invecchio Salgo di livello Bella questa Bellina Dobbiamo soltanto fargli capire a lei Come scriverla in italiano Eh sì, quello che fa E poi stiamo prendendo altre cosine Vi faccio vedere cosa abbiamo preso Abbiamo preso Un po' di biscotti I cupcake Poi le ciambelle no Le messe lione Facciamo un po' anche di decorazioni Le cose salate ce le abbiamo La pizza la devo ordinare E ora vediamo un po' Anche secondo me Come dico io Questo pure è bellissimo Ladies Qui c'è questo catalogo Dove voi potete scegliere Praticamente Tutte le cose che volete Sulla torta Tutte le immagini Se per la comunione Per i compleanni Insomma Di tutti i modi Quelle stagionali Quelle dello sport Guardate dello sport Quante ce ne sono Anche delle scuole Penso siano Alcune Sì Guardate quante Cioè veramente potete Scegliere quello che volete Questi sono per i compleanni Questa è per la gender reveal E Megan ha scelto ora Una scritta Che sta scrivendo la ragazza In italiano Una di quelle che mi abbiamo fatto vedere Sì in italiano E quindi gliela abbiamo scritta Su un foglietto E la sta copiando E poi la scoprirete ovviamente Speriamo che non sbaglia Al compleanno No Perché sbaglierà No Non sbaglierà No Comunque queste torte Ladies Io Cioè Avrei voluto prenderle quella Che è gigante Quella è quella che mi faceva Però Cioè È tutta congelata Ha detto la metto in frigo Poi per domani Sì si dovrebbe sciogliere Ma come si dovrebbe sciogliere Si dovrebbe Io ne ho preso le patate Non so dove le abbia trovate Comunque Leo ne ha preso Leo ne ha preso Sì E niente Ora vediamo un po' Ladies buongiorno Compleanno in the making Oggi è il compleanno di Megan Sono appena venuta a prendere Ma Maria di palloncini Poi vi faccio vedere a casa Cosa ho preso E poi le ho fatto anche Un regalo a tema Molto particolare Ora andiamo a prendergli Un altro regalo Che poi è quello che lei Vuole di più E poi andiamo a casa Organizziamo la festa E oggi festeggiamo Megan Ha appena suonato la porta E c'era un regalo per Megan Che dobbiamo capire Chi l'ha mandato E da dove arriva Vediamo Megan Reazione È arrivato questo per te Megan Qui Sì Guardate Hai visto ha detto Megan Megan Sì Guarda Hai visto per il tuo compleanno Leone ti ha detto Megan Non lo so Apriamo il bigliettino Questo va bene Arrivano da New York Il fiorista Fioraio Fiorista Apri un po' Fioraio Fiorista Mamma mia che belli Che sono Guarda ci sono le hortenzie Le rose Poi ci sono questi altri Fiorellini gialli Leggiamo un po' Non ho capito Che c'è scritto È in inglese Happy birthday Megan Best wishes That may all your dreams And desires Come true If possible Che c'è scritto qua Non riesco a dire C'è scritto gli auguri Però hanno scritto Anche da consegnare La prima che va a scuola O nel pomeriggio Quindi Buon compleanno Megan Che tutti i tuoi sogni Possano diventare realtà E poi c'è scritto Se è possibile Consegnare la mattina Grazie Ma da parte di chi sono Davami la busta Vediamo Non lo sai Eh qui C'è scritto soltanto Qui pure c'è scritto Megan E da parte Di tua cugina Giada E di zio Che bello Grazie zia naturalmente Hai visto che belli Ringrazia Grazie Grazie Ora gli manda la foto A che babbo Sta facendo un video Eccolo Grazie Ladies Qui siamo in preparazione Stiamo gonfiando Adesso io vado a mettere Il mega banner Bellissimo Guardate che carino è Abbiamo comprato quelli giganti Anche Prepariamo Prepariamo Per la festa Io sto preparando Vi inizio a far vedere Qualche spoilerino Ora devo fare Tutto il tavolo Preparo E poi ci siamo Gladys Ladies Ladies Finalmente ho sistemato casa Qualche giochino c'è sempre, ora io e Leone vi facciamo vedere l'allestimento per la festa di Megan, allora vabbè ci sono palloncini ovunque al cucina per la gioia di Leone questi sono il bundle che ho preso con il 13 enorme Leone vieni Babbo e Megan sono andate a prendere delle amichette quindi questo è il bouquet di palloncini il 13 e poi ci sono questi più piccolini con la scritta birthday babe la stellina e il cuoricino questo invece è il set up ok le dissi ho fatto un mini tour poi adesso arriva la pizza abbiamo i palloni panini poi ovviamente ci sono ben due torte in frigo che dopo utilizzeremo perché oltre a quella di ieri ne ho presa un'altra oggi che mi piaceva tantissimo Leone vuole fare fuori i bicchieri e poi adesso io e Leone ci andiamo a vestire, vero mamma? Andiamo dai rompiamo la pentolaccia vai piano Megan oh oh ohIII ora non mi rompiamo la tavola ma non so non pompstro la pentolaccia nel commercio figchia fai provare oh oh vai中共 quasi quasi vai andrea vai fai pieni andrea oh no 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 ohlocamente oh oh regard �를 oh oh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to megan happy birthday to you esprime un desiderio mamma apriamo i regali questo di chi è andrea giussi vediamo vediamo è piano piano che bella carta bellina che bella carta colorata megan il biglietto prima si legge make a wish te la capo buon primo compleanno americano dolce megan che il futuro ti riservi solo meraviglioso happy birthday from juicy andrea che bella grazie grazie mille bellissima la m di megan thank you so cute vieni che te la metti next sta sta luce a gialla che è it might be heavy oh no don't kill me this is from mariam che bellino leggilo vai happy birthday megan no a me che solo è più bold sta scherzando usare anche roba il giusto è più grande ma non so se non importa le calorie sono solo non sono ancora un giorno non c'è un altro cambio non so come dire che puoi mantenere il tuo piccolo chocolate a bè bellino thank you apri vai bella anche la tazza voleva she wanted a new one because she only had one here in america so it's a nice thank you thank you ok this is this is a theme gift è una come si dice è un regalo a tema horror nooo ho già capito nooo nooo batti 5 è un regalo a tema horror ho già capito ho visto no sono varie cose quindi non puoi capire allora questo è un poster vedi di cosa qui c'è il disegno di coraline che è il primo che gli piace a lei io ho preso il poster tutto a tema horror uhhhh questo è il fumetto di night before christmas tutto in inglese così legge in inglese e poi ci sta un'altra cosa biglietto uhhhh che carina la statuina di mercoledì che carina grazie e poi c'è questo ah il biglietto sembra per l'ultimo biglietto ma è un regalo quello si eh non ho preso il palloncino quindi ho preso il palloncino e lo faccio diventare viva mamma it's like the cake yeah i like the cake grazie ora apri questo questo qui era a tema horror questo è a tema bellezza tema bellezza ohhhh questo è il beauty theme ok questo è il più difficile ohhhh ehi ma guarda cosa c'è megan la cosa più importante nooo c'è un ultra gift card ohhhh che carino che carino questo mi piace questo è il regalo più bello questa è la gift card di Ulta che puoi usare al negozio perchè lei adesso è nel trip di skin care e make up che bello grazie questo te lo volevi per fare la skin care sempre ok grazie a tutti per i regali bellissimi non ci mangiamo la torta questo è l'interno della torta americana bella spessa devo dire profumo profumo ora vediamo se è pure buona bella è sicuramente bella ciao ladies qualche giorno diversi giorni dopo il compleanno devo dire che è stata una bella festa il primo compleanno in america 13 anni è sicuramente sì sicuramente importante l'ho voluto celebrare al meglio possibile insomma comunque siamo in una nuova nazione in un nuovo continente con abitudini amici persone diverse ma l'amore secondo me non deve mai mancare ed è quello che ho cercato di trasmettere durante questa festa comunque l'attenzione e l'amore appunto sono venuti alcuni amici di megan appunto delle delle bambine dei bambini che ha conosciuto a scuola qualcuno altri ancora li dobbiamo conoscere perché comunque il suo compleanno venendo a settembre aveva iniziato scuola da pochissimo di conseguenza piano piano poi conoscerà anche altre persone mi state chiedendo anche aggiornamenti sulla scuola vi farò un video specifico già ne ho parlato con megan dove praticamente parleremo proprio della scuola di come sta andando risponderemo un po' di curiosità prima di salutarvi però vi voglio ricordare che è tornata io ce l'ho qui perché la sto usando in questi giorni quindi ce l'ho in ufficio lei che è la meravigliosa Lady Sorrento è tornata nera nei due nuovi colori che sono vinaccia e verde autunno sono molto belli e super appropriati per questa stagione ci potete fare un sacco di look li mettete col nero nel marrone con i jeans con quello che volete e la nera è quasi sold out trovate ancora qualche pezzo vinaccia e verde anche lì siamo quasi sold out e vi ricordo che per dare il benvenuto all'autunno c'è un codice sconto attivo per avere la spedizione gratuita che è welcome autunno ma scade martedì 1 ottobre quindi tra pochissimo i pezzi sono limitati come vi dicevo per la meravigliosa Lady Sorrento ma c'è poco da aggiungere su questa borsa perché la conoscete meglio di me e la dorate è una borsa super capiente tra le altre cose nonostante le dimensioni medie sul sito trovate anche il video per vedere quante cose riesce a contenere trovate tutto su filomenamore.it io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ladies